iMindMap è il software creato direttamente da Tony Buzan che ti permette di creare le mappe mentali. Essendo un software, se decidessi di acquistarlo dallo store, non riceverai niente di fisico, ma un codice da inserire sul tuo computer o il tablet per attivare il funzionamento del programma. Grazie a questo software potrai creare delle mappe mentali da un'efficacia incredibile perché ti permette di unire la creatività della mano libera alla tecnologia informatica. Il consiglio che mi sento di darti per trarre il massimo beneficio è quello di scaricare prima la versione di prova e guardare i video tutorial. Tre motivi per decidere di acquistarlo. Il primo, risparmio di tempo. Il secondo, la possibilità di stampare in qualsiasi formato grafico le tue mappe mentali. Il terzo, fare delle presentazioni che cattureranno l'attenzione. iMindMap, le tue mappe avranno tutta un'altra faccia.